Ecco qui i datori di lavoro stanno partendo con Martin, stanno partendo con Martin, vedete là, con i datori di lavoro e sta arrivando il manager, il nostro bravo manager, sta arrivando, c'è anche Alessandro là, che è arrabbiato ma speriamo che adesso si è tranquillizzato un po'. E poi c'è Agostino il ballerino che beve il suo caffettino, ecco c'è anche il nostro bravo amigos, ecco qui c'è il manager, siamo tutti contenti, siamo tutti contenti, grazie a Dio è arrivato il nostro manager, bravissimo con la roba, facciamo un applauso a questo bravo ragazzo, bravo 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 bravissimo, bentornato, appena è andato via un datore di lavoro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, è appena è andato via un datore di lavoro, facciamo un applauso a questo bravo ragazzo, grazie, c'è Barbara che sta lavando, grazie, Dio è benedica, grazie, benissimo, grazie, è appena è andato via un datore di lavoro qua, è appena è andato via e quindi siamo tutti felici, siamo tutti felici e contenti e grazie a Dio.